A partire da domani anche la provincia di Pesaro e Urbino, assieme a quella di Fermo, sarà in zona rossa, come stabilito dall'ordinanza firmata ieri dal presidente delle Marche, Francesco Acquaroli. Fino a domenica 14 inclusa, quindi, saranno valide le disposizioni che la zona rossa prevede. Chiuse le scuole di ogni ordine grado, per cui sarà attivata la didattica a distanza al 100%. Restano chiusi anche i bar e i ristoranti, con asporto consentito fino alle 18 per i primi e fino alle 22 per i secondi. Limitati gli spostamenti, che saranno consentiti per motivi comprovati di salute, lavoro e necessità. Restano chiuse le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Chiudono i battenti anche le attività commerciali al dettaglio. Saranno aperte solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Tra le varie chiusure imposte dalla zona rossa, c'è anche quella che riguarda parrucchieri, barbieri, tatuatori e centri estetici. Un duro colpo per le attività, che però, come afferma l'estetista Barbara Landini, non intendono arrendersi. Già si vociferava la settimana scorsa che saremo diventate zona rossa. Abbiamo anticipato gli appuntamenti. Noi solitamente lunedì è il nostro giorno di chiusura. Domenica ci siamo date da fare, abbiamo contattato le nostre clienti. Quindi abbiamo aperto, lavorando tutta la giornata in orario continuato, soprattutto quei trattamenti che si fanno una volta al mese, perché diciamo che noi siamo specializzate per quello che riguarda i servizi di estetica avanzata. Quindi laser, ultrasuono focalizzato, sono trattamenti che si fanno una volta al mese, cercando di anticipare un pochino di non perderci il mese di marzo. Naturalmente abbiamo dovuto annullare gli appuntamenti e avvisare di conseguenza tutte le clienti che sono un po' dispiaciute di questa cosa, perché anche in questo periodo è molto difficile, perché dopo un anno si può dire che siamo nella stessa situazione. Venire qua, prendersi del tempo, è una coccola per le persone, diciamo che ci siamo rese conto che è una cosa che piace. L'emozione che proviamo in questo momento, ha spiegato Barbara, è di sconforto, ma cercheremo comunque di sfruttare al massimo questi giorni di chiusura, per organizzarci al meglio per la prossima riapertura. È stato tutto molto veloce, non abbiamo avuto tempo di pensare. Sicuramente per noi il danno ci sarà, perché questo è il periodo dove noi iniziamo a lavorare sul corpo, in previsione del periodo estivo e già a febbraio avevamo iniziato a fare diversi programmi per quello che riguarda il corpo e anche i trattamenti al viso. Insomma, sono dei mesi per noi molto importanti. Il nostro motto è quello di non mollare mai, non si molla mai, quindi nonostante la zona rossa non ci scoraggiamo, anzi cerchiamo di prepararci quando sarà il giorno dell'apertura, di ritornare belle cariche e piene di novità per i nostri clienti.